Andrea Orecchia 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 ha chiesto il cambio, quindi abbiamo preso due giocatori per infortunio, quindi elogio la squadra e il gruppo per questo. Purtroppo oggi non è una giornata felicissima per noi, però mi fa sempre piacere giocare in questo stadio, comunque ho trascorso tre anni importanti della mia carriera, quindi vengo sempre molto volentieri. In questo momento mentalmente siamo abbastanza fragili e ci siamo un po' sbracati. Questo San Marino come l'hai visto? Una squadra molto organizzata, molto compatta, mi ha fatto un'ottima impressione con giocatori esperti, anche di categorie superiori, quindi una squadra che come tante altre può dire la sua anche per la vittoria finale del campionato.